Terre Alte al centro dell'Europa è il titolo del seminario che LUNCEAN Piemonte ha organizzato il 21 settembre a Torino, nella sede del Consiglio regionale. I vari interventi hanno ripercorso la strada compiuta fin qui dalla montagna, area svantaggiata che nel quadro della politica agricola comune è stata destinataria di un ampio regime di aiuti per poter proseguire l'attività agricola e la conservazione dell'ambiente.